Figli a casa, che diventa una scuola, con la didattica a distanza e congelli ancora i box. È la difficile situazione delle famiglie italiane abruzzesi, dunque, che si ritrovano a fare conti con moltissime difficoltà, derivanti dalla gestione dei figli e dall'assenza di agliuti. Il tema vero è proprio questo. In Abruzzo difficilmente le scuole riapriranno lunedì, così almeno si dice. Si potrebbe slittare sino a Pasqua, con la curva dei contagi che sta risalendo in modo pericoloso anche nell'Aquilano. L'associazione Mamme per l'Aquila, il tema dei sostegni e dei ristori, lo aveva lanciato sin dall'inizio. L'associazione Mamme per l'Aquila, in quanto associazione che tutela le famiglie, chiede l'imminenza di decreti a sostegno delle famiglie, perché attualmente non ce ne sono. Noi siamo 15 giorni che siamo in didattica a distanza, ma attualmente i genitori devono arrangiarsi da soli. Questa è l'urgenza effettiva da risolvere e facciamo un appello anche al Presidente Marsilio affinché si faccia carico di questo nostro disagio al governo. Inoltre voglio sottolineare che lo smart working non è non lavorare, ma è un lavoro a tutti gli effetti, a volte anche più controllato da parte dell'azienda, ovviamente, perché sono anche più esigenti. Quindi cerchiamo di trovare dei sostegni per le famiglie, prima di tutto, e poi provvedere anche ad un piano vaccinale accelerato per le insegnanti e per tutto il personale scolastico. Gli ultimi aiuti e bonus, in realtà alcuni lavoratori li hanno avuti a gennaio, poi il cambio di nome da ristoria a decreto sostegno, ma le famiglie ancora attendono. Insomma, per il momento le famiglie sono ancora senza paracadute, quando invece servirebbero strumenti immediati per sostenere la chiusura delle scuole, con congedi e bonus babysitter che, come si sa, sono scaduti a dicembre. Le difficoltà sono notevoli, anche il fatto di non poter ricorrere ai nonni, categorie fragili, e allora per il momento ci si arrangia, in attesa di qualcosa di più, di qualcosa di comunque sacrosanto per le famiglie.